Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio portarvi un argomento molto delicato, perché spesso non se ne parla, perché sono quegli argomenti che si pensa in uno stereotipo sbagliato, che non riguarda il mondo del calcio in quanto il mondo del calcio, essendo pieno di soldi che girano nelle tasche e anche i calciatori stessi, dovrebbe essere un argomento che non li riguarda. Parliamo dell'ansia, della depressione, dei problemi mentali di tipo emotivo di molti calciatori. Ho trovato questo articolo, che vi leggerò delle frasi di calciatori particolari, sul blog di Gianluca Di Marzio, che ovviamente si occupa di calciomercato, ma spesso riporta anche notizie del genere. Tendo avuto una bellissima idea di Marzio di portare una cosa del genere, perché appunto perché se ne parla poco, è giusto anche dar voce ai calciatori e dar voce a questo fenomeno. Vi leggo quello che è l'intestazione del titolo, che poi darà anche il nome al titolo del mio video, di questo articolo. Non ce la faccio più, mi vergogno uscire di casa. Mertesacca e Andrea Gomez, le verità dei calciatori che non vivono un sogno. Le verità dei calciatori che non vivono un sogno è il titolo di questo video, perché vi chiedo che la frase sia molto bella, fatta molto bene. Di cosa parliamo? Parliamo di due calciatori, sono dichiarazioni di due calciatori, ma ciò non riguarda solo loro, riguarda sicuramente altri, che non sono felici di quella che ha la loro vita. Professionale prima di tutto, ma ovviamente sappiamo che quando c'è la vita professionale di mezzo, anche la vita in generale, insomma non è che se uno non è felice del proprio lavoro, ovviamente è una persona anche non felice nella totalità della sua vita. Sembrava strano perché uno pensa che il calciatore sia un privilegiato, per certi versi lo è, ma non è detto che ciò sia effettivamente la verità. Parliamo di privilegiati perché nel nostro immaginario chi guadagna di più per forza sta meglio di noi, è più felice di noi. Non è detto che tutte le persone che guadagnano dal nostro stipendio in su, siano per forza di cose, appunto, come dire, felici più di noi. Ci sono tanti esempi, purtroppo la crisi che nel 2008 è iniziata anche a invadere l'Italia, è una crisi che ha portato al suicidio, quindi a te molto estreme, anche per persone che non sono magari operai o comunque persone che prendono stipendio normale, ma anche imprenditori, persone con grandi responsabilità, quindi anche magari che hanno più soldi in tasca rispetto magari a un operaio, ma anche con più responsabilità, e tante altre persone che hanno fatto eserci estremi che uno non si spiega perché, perché chiaramente uno pensa che una persona di una certa posizione sociale sia per forza più felice di magari una che è in una strazione sociale più bassa. Purtroppo non è così, e anche per i calciatori non è così. Una statistica che trovate appunto in questo articolo dice che un calciatore su tre, uno su tre ragazzi, è veramente una frazione molto, molto importante, soffre di ansia e addirittura depressione, ansia quindi anche proprio nel gestire le emozioni prima delle partite e così via, quindi un'ansia, non l'ansia che abbiamo noi quando magari abbiamo un esame da dare, buon ansia continua tutti i giorni a allenarsi con un peso addosso e fare la partita con un peso addosso. Quell'ansia che magari porta magari a, probabilmente il stomaco, a certe persone, molti le gestiono così, pensate a un giocatore che deve comunque vendere anche l'ello fisico e quindi magari i problemi fisici, costa dalla testa in realtà, sono molto, molto gravosi. Uno su tre, personale altissima ma gli esempi sono tanti, qua parliamo di Andre Gomes e Mertesacker ma ricordiamoci Buffon che ha dichiarato recentemente che appunto lui ha sofferto per anni di depressione, voi pensate perché depressione Buffon? Buffon è uno dei calciatori più pagati in Serie A, sicuramente uno di quelli più pagati di sempre, di quegli italiani, però anche lui ha sofferto di depressione, adesso l'è guarito, ci è passato, però chiaramente si è sofferto, però usualmente i percentuali fossero più alti delle sezze percentuali dei depressi, di coloro che soffronarsi in questo modo, magari tra di noi, gente comune, operai, chi magari è impiegato e così via. Perché? Perché evidentemente, come detto prima, non c'entra in quale parte sociale tu risieda, è un discorso un po' diverso. Volevo fare un ragionamento prima di poi leggere le indicazioni nello specifico e capire un po' quello che è il malumore di questi due giocatori qua. Quando parliamo di povertà, insomma, nel nostro paese si fa un riferimento di parametri, ma chiaramente la nostra povertà per chi magari vive in terzo mondo, in Africa, la nostra povertà per loro sarebbe ricchezza, perché chiaramente anche se avessero solo un po' delle nostre difficoltà, sarebbero comunque meglio di quanti in realtà stanno. Però ovviamente le nostre difficoltà vengono viste da noi, dal nostro punto di vista, di personaggi, cittadini del primo mondo, come un peso gravoso per chi magari, tra di voi qualche problema economico e così via. Sicuramente per un africano di qualunque paese dell'Africa subsahariana, vedrebbe le nostre difficoltà come qualcosa di, probabilmente anche, una roba da poco, invece per noi non è così. Ecco che i punti di vista sono diversi. Per un calciatore, anche il fatto di avere un certo livello di tenore di vita non per forza deve essere associato a una felicità per forza di cose collegata. È una cosa un po' particolare, forse un po' filosofica da capire, in realtà la psiche e l'emozione delle persone non sono in qualche modo quantificabili e qualificabili, e quindi è anche difficile capire entrare nella testa di un calciatore, perché non lo siamo, non siamo sicuramente delle persone con un tenore di vita molto simile, magari anche con lavori diversi, ma con un tenore di vita molto simile, cosa che è molto difficile, visto che comunque il calciatore è veramente uno dei lavori più pagati. Adesso leggiamo un po' quello che dice Mertesacker, quello che dice André Gomez, che è molto più giovane di Mertesacker. Mertesacker è il difensore tedesco dell'Arsenal, e dice questo, e parla del 2006 dei mondiali, quindi una partita che è arrivata in semifinale contro noi, tra l'altro. Quando nel 2006 il Germania ha perso i mondiali contro l'Italia ero sollevato, cioè un tedesco che dice che è sollevato, quindi felice che l'Italia sia uscita. Ero difesuto per l'eliminazione della mia squadra, ovviamente, questo sì, me lo ricordo come fosse oggi, ma pensavo soltanto è tutto finito finalmente. C'è la trova pressione, alcuni la rimano male. Noi veniamo valutati solo per le nostre prestazioni, non si gioca per divertirsi, ma bisogna rendere sempre al meglio senza giustificazioni. Questo è l'ultimo anno in cui giocherò, quindi parla di quest'anno qua. Non ce la faccio veramente più, preferisco stare in panchino o meglio ancora in tribuna. Tra qualche mese sarò libero. E' una parola fortissima quella di salò libero, sembra quasi che voglia sfogare in qualche modo quello che è un peso che lo porta avanti da anni, dal 2002 al 2006, quindi ragazzi questo giocatore qua, questa persona qua, prima di tutto sono uomini, è da 12 anni che sente questo bisogno di non giocare. Per un calciatore si dice che si fa il lavoro che voleva fare da bambino, in effetti poi lo dirà, voleva fare quello da bambino, fa il lavoro, però poi mentre lo fa non è felice pur guadagnando, quindi pur avendo raggiunto il suo sogno, quello di diventare un calciatore e anche stipendiato, il suo sogno in realtà è un peso e quindi è una cosa molto molto grave di pensare, quindi questo sarò libero sembra quasi uno sfogo, io glielo auguramente di fine della carriera perché se da 12 anni va avanti in una situazione così io non vorrei essere nella testa di Mertesacri perché deve essere una pressione, cioè allenarsi ogni giorno e fare le partite, poi lui è un titolare, un giocatore anche abbastanza discreto, voglio dire un buon giocatore, far sempre, cioè vivere settimana in settimana con questo peso deve essere una cosa lancinante ragazzi, che io non voglio veramente provare anche se magari noi provo delle situazioni di tensione, pressione, l'ultimo studio, il lavoro e così via. Per un calciatore è uguale, le proporzioni solo che sono i punti di vista che cambiano come detto prima, un po' quel discorso del ragazzo dell'Africa subsahariana e del nostro punto di vista. Nei momenti che pregiano la partita del mio stomaco, il stomaco gira come se dovesse vomitare, quindi il discorso che ho fatto all'inizio dello stomaco, molti reagiscono nello fisico per un discorso di testa. Devo soffocare questa sensazione così evidentemente che poi iniziano a lacrimarmi gli occhi. Ormai so come devo fare, è come se simbolicamente vomitassi tutto quello che viene dopo il fisco inizio. Gli infortuni spesso sono mentali. Attenzione qua che è un discorso molto interessante, ti fai male solo perché non ce la fai più. È una cosa che io pensavo spesso, quando parliamo di infortuni, anche lo stesso Ovedes che si infortuna spesso, credo che alla base ci sia anche un discorso mentale, cioè il collegamento tra quello che è la sanità del fisico e quindi quello che è anche il discorso della testa. Perché talvolta ci si fa male, non solo per discorsi di natura fisica, cioè se ti metto male il piede, mi storgo il piede, mi faccio male, ma anche frequentemente una specie di calum, una trompressione a livello di motivo può provocare appunto dei problemi anche fisici, seri per i calciatori, visto che il fisico poi è lo strumento che usano i calciatori. È una cosa interessante, non sono un psicologo, quello che è un medico, però serve bello approfondire questa cosa qua per quelli che sono i collegamenti, magari anche tra di voi, che qualcuno, qualche medico, qualche psicologo che sa bene questi discorsi qua, di capire se è un collegamento effettivo tra la sanità mentale, voglio dire, e quella fisica. Talvolta anche noi appunto reagiamo a livello fisico nel nostro stress, cioè quando magari avete un mal di pancia, mal di stomaco perché avete un esame da affrontare, siete di tensione, il vostro stomaco e la vostra pasta è benissimo, ma la testa dice che evidentemente c'è qualcosa che non va, non perché abbiate un virus o peso freddo, ma semplicemente perché la vostra testa è sotto pressione, scarica e sfoga sul corpo. Ecco, questo è un po' quello che mi sono fatto l'idea io. E poi dice una cosa che l'unica cosa legittima per prendersi una pausa è infortunarsi, cioè la liberazione dell'infortunarsi. È una cosa veramente terribile perché vuol dire che una persona si infortuna, cioè fa, nega, si nega a se stesso la possibilità di giocare e piuttosto di star bene, invece di star male, ha un infortunio muscolare e così via, per non giocare, allenarsi meno e non fare le partite. È una cosa che un calciatore non si trova mai a sentire dire, purtroppo l'ha detto, è onestamente, quindi va rispettato per questo. Passiamo ad Andrea Gomez che è molto più giovane e quindi ha anche un vissuto diverso, tra l'altro un giocatore creato a Barcellona il pari uno d'anni fa, quindi anche fresco fresco in un ambiente sicuramente più pressante rispetto a quel precedente. In campo non mi sento bene. Forse non è la parola più giusta, ma proprio i primi mesi positivi tutto si è trasformato un po' in un inferno. Inanellamente è tutto ok, ma le sensazioni in partita non sono buone. Pensare non mi aiuta perché mi hanno in mente i pensieri negativi e continuo a pensarci ancora e ancora. Non parlo con nessuno, non do fastidio a nessuno, come se mi vergognassi. Mi è successo di non voler uscire di casa, vergognarsi di uscire di casa non è bello. Quest'ultima frase è la stessa frase che mi ha coerito molto quella del quando smetterò solo libero. Sono frasi pesantissime, secondo me. A me ha molto colpito questo articolo qua perché io mi sono sempre fatto un'idea. Spesso nei commenti leggo eh ma magari sono articoli su un lutto dei calciatori piuttosto che un calciatore che dice sono stressato, sono stato depresso e così via o anche un VIP. Io credo che ci sia a volte un po' per ignoranza, molta mancanza di rispetto verso questi personaggi e nei commenti talvolta leggo eh ma quei soldi che prendi dovrei stersi felice. È il discorso che rimando all'inizio, è un discorso molto delicato innanzitutto che non va banalizzato solo perché prendono più di noi. Cioè nel senso che se io dovesse essere, io magari, non so, mettiamo a caso, noi prendiamo 1000 euro al mese. Quanto prendono al mese? Non so, loro fanno il conto all'anno, però magari loro al mese prendono 500.000 euro. Io dovrei essere, secondo questa logica, un 500esimo della felicità che in realtà ha il calciatore. Diciamo che dovrei praticamente essere, praticamente, tentare il suicidio se il mio valore economico fosse correlato in qualche modo a quello emotivo e quindi correlato a quello del calciatore. Invece non è così ragazzi, come ho detto prima, i punti di vista, ci sono tante cose a te le imballo, è un discorso delicato da non banalizzare, non stereotipare. Pertanto i commenti alla volta che leggo veramente sono di una tristezza, ok, che c'è l'ingranza di mezzo, che l'ingranza di per sé può essere anche non una colpa, non ho di fatto per alcuni. Però banalizzare, dicendo ecco, ma quei soldi che prendono essere felici più di me, in realtà non è così e questa è una prova. Quindi io veramente qualche volta vorrei, voglio solitare io e far notare che talvolta c'è da rispettare gli uomini prima di tutto, che i professionisti, perché dietro i professionisti sono gli uomini con delle loro emozioni, le loro pressioni e questa cosa qua, anche delle statistiche dell'un terzo soffre d'ansia o depressione tra i calciatori, che può essere, non so, non so il statistico ufficiale per le persone normali, voglio dire, però può essere molto maggiore o comunque equiparabile a quella delle persone normali che hanno problemi economici, magari più di loro, è un discorso che fa pensare, è un discorso delicato che secondo me andrebbe approfondito, approfondito anche da parte dei tifosi per avere più rispetto verso quelli che sono gli uomini. Poi ci sono discorsi economici e magari delle disparità sociali che vengono viste male, anche se io reputo il calcio, forse, non dico l'aspetto, il mondo più meritocratico, però sicuramente se degli privati pagano tanti calciatori, un motivo c'è di sicuramente più giusto rispetto a magari delle istituzioni pubbliche che pagano, stipendiano molto altri personaggi con i soldi dei contribuenti, quindi è un discorso diverso, sono molto d'accordo per pagare tanto perché nessuno di noi ci ha negato di fare il calciatore, a qualcuno è nato con una bella testa per diventare un bel ingegnere, un economista, un medico, quello che è, a qualcuno è nato con i piedi buoni per giocare a calcio, qualcuno l'ha trovato, ha fatto la sua strada, ha fatto sacrifici, ha fatto gavetta, perché poi, parliamoci chiaro, anche un calciatore ha dei sacrifici per il tipo di lavoro che fanno, e è andato là, nessuno, nessuno, insomma, nessuno ce l'ha negato nulla, io sono nato scasso con i piedi, è un problema della natura, e di certo, non sono invidioso di coloro che invece sono nato con quella uguale dotte, magari ho altre dotti e loro no. E tutto questo ragazzi, approfondite se avete in curiosità questo argomento perché può essere molto interessante, Nino Jamesi, il mio amico collega, aveva approfondito delle tematiche interessanti su quello che era il discorso fisico, mi pare che si è fatto un video sui colpi di testa, del fatto che posso danneggiare, poi legato ai discorsi della SLA, danneggiare appunto il discorso del cervelletto e la cona vertebrale, e lui ha iniziato un po' di video di questo tipo qua, medico, diciamo così. Questa cosa qua la trovate interessante perché in effetti, non dico che continuerò questo tipo di video, ma magari se ci sono delle cose di approfondimento su questa tematica qua, e se voi foste interessati, approfondirò. Vi metterò il link sotto dell'articolo di secolo di marzo, potete leggerlo tranquillamente, visto che ho solo parlato e letto, senza darvi riferimenti visivi. Come sempre Forza Juve, in bocca al lupo a Mertesacca e Andrea Gomez, speriamo che li trovino alla pace all'interiore dei sensi, perché è una cosa importante, prima di tutto, più che chiaramente i benefici economici che prendono questi gacciatori. Forza Juve, alla prossima, ciao! Paura, 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 paura.